TeleGarda Trentino è la nuova emittente sul canale 885 del Digitale Terrestre. Passaparola, fai conoscere ai tuoi amici e parenti il nuovo canale che trasmette nell'Alto Garda, dove potrai vedere tutto quanto fa informazione, attualità, storie, cultura e spettacolo della nostra zona. Chiamaci allo 0464 519191 e segnalaci le notizie, le manifestazioni e le storie di Arco, Riva del Garda, Torbole, Nago. Arriveranno le telecamere di TeleGarda. Se hai un negozio o un'azienda, approfitta di questo nuovo strumento per far conoscere la tua attività, con le offerte promozionali dedicate ai nostri primi inserzionisti. Chiama subito lo 0464 519191. TeleGarda Trentino, sei tu!